Il trofeo medagliatori il Silvano Cuffa questo è Tonichello secondo reggimento alpini terzo reggimento alpighieria da Moscagno Dopo ben 27 anni per la loro 66esima edizione. Ringrazio poi le autorità civili intervenute. Avevano ospitato ininterrottamente i nostri campionati. La cinese e la cittadina daurinense è rientrato dall'Afghanistan. Con la brigata ha avuto il piacere di partecipare alle cerimogne di apertura e chiusura. Mentre invece gli organi organizzativi sono rimasti solo. Valentemente operativo e sportivo. I raggiamenti e delle dotazioni tene. L'azienda italiana è specializzata nel settore. La signora della medaglia d'oro Gigli per onorarci oggi per la sua presenza. E per il nostro esercito. Due valdonosi uomini. Il generale Caligaris ed il giovane ufficiale Lozzi. Risultati raggiunti in ambito addestrativo e operativo. Per pensionare. Valori come l'amor di patria. Alza bandiera. Siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. Sì! Sì! Grazie a tutti